come è andato il colloquio come è andato bene penso e quanto sborsano al mese 5.000 lo dici così ma allora ti dovevo prendere a schiaffi da piccolo e invece manco uno te ne ho tirato ma ti rendi conto 5.000 e stai con il muso magari perché uno schiaffo a un bambino che non c'è manco un padre non glielo dai ma che c'entra questo tu intanto inizia a concentrarti su quello che hai e non solo sul fatto che qualcuno non ti ha voluto non sai neanche tu perché perché qualcun altro invece ti ha voluto talmente tanto talmente tanto da passare su tutte le paturnie che avevi da ragazzino e da sopportare un'adolescenza che è stata la guerra del Vietnam e da amarti incondizionatamente con tutto quello che sei cioè un grandissimo rompicoglioni e chi da solo non mi va tanto di andarci a suo lavoro forse questa ragazza avrà i suoi difetti ma una così che ti sopporta e la devi tenere stretta tu sei un po scombinato figlio mio ma fino a qua ci siamo arrivati non è da tutti